Non ne dobbiamo solo parlare, la dobbiamo declinare in tutte le sue accezioni, portandola grazie al lavoro delle scuole, dei centri di ricerca della nostra università per il lavoro che si è fatto di conservazione delle nostre produzioni e il rilancio con quella che è la nostra storia, la nostra tradizione su tutto il tema della biodiversità, ci sta vedendo impegnati in maniera più forte negli ultimi due anni con il mio mandato, ma anche con la grande collaborazione delle comunità locali e delle istituzioni pubbliche, lo dobbiamo fare perché il tema di rilancio della dieta mediterranea, capendo e conoscendo quali sono le produzioni, ma anche tutta la biodiversità che ci circonda, dal mare ai boschi, sia patrimonio di tutti perché è solo grazie a questo che noi riusciamo a vivere, vivere bene e quindi abbiamo bisogno di parlarne e di sottolineare. Fare un festival della biodiversità che si colloca in operazioni di caratura nazionale e lo candideremo col dottor Trotta a livello nazionale delle attività ministeriali significa essere all'avanguardia, significa essere lungimiranti e dimostrare che è una Puglia attenta ma soprattutto pronta alle sfide.